Allora, siamo di fronte all'ultima serie, subito che sembra lo Iusna che presta l'iniziativa inizialmente scelta, almeno su questo primo cambio, adesso andiamo per l'ultima partita e almeno su questo primo cambio, adesso andiamo per l'ultima partita e almeno su questo primo cambio, adesso andiamo per l'ultima partita e l'altra partita è Yusin, 52 e 69 senza seconde puntate